Buongiorno amici di YouTube, benvenuti nel mio canale. Cialanoglu attacca Ibrahimović il Milan, dicendo che quando lui giocava il Milan la curva non ha mai cantato e fatto cori sul suo nome, dicendo che Ibrahimović è anche un bambino, perché a 40 anni non si fanno quelle cose chiedendo cori contro Akan. Caro Cialanoglu, ti rispondo molto, molto chiaramente. Il bambino sei tu. Da quando sei all'Inter parli solo di Milan, hai sempre detto che siete più forti, però il campionato l'ha vinto il Milan. Magari lo vincerà il prossimo anno, chi lo sa, chi vivrà vedrà. Però al momento il bambino, caro Cialanoglu, sei tu, perché da quando sei all'Inter in bocca hai solo il Milan e continui a dire sempre che l'Inter è più forte. L'ho sempre detto, sulla carta l'Inter è più forte. Non ho mai negato l'evidenza, però caro Cialapippa, devi metterti in testa una cosa di Scudetti nei vinti zero. Quindi, prima di parlare di Ibra, sciacquati la bocca. Ciao a tutti ragazzi, a più tardi.